Rieccoci qui da Palazzo Mezzanotte, si è appena concluso l'E5G Forum, questa prima edizione che ha visto diversi interventi, diversi spunti di riflessione. Adesso abbiamo qui con noi il presidente di Huawei Italia, Luigi De Becchis, che è anche intervenuto faccia a faccia con il nostro moderatore Andrea Frollà. Raccontiamo anche ai nostri telespettatori quali sono le opportunità economiche del 5G. Il 5G io vorrei precisare che non è la bacchetta magica, il tocco taumaturgico che cambia un paese, è una tecnologia abilitante che ha delle caratteristiche molto interessanti e che consente ovviamente alle nuove generazioni che sono più vicine alle innovazioni tecnologiche e soprattutto alle aziende start-up di utilizzare la grande capacità di collegamenti con sistemi di internet delle cose, machine to machine e applicazioni soprattutto per la particolare tecnologia. Consente di sviluppare applicazioni innovative che sono da destinare a vari settori che sono come quello dell'automotive, nella guida senza pilota, senza driverless. Sono dedicati al settore della sanità per migliorare l'efficienza del sistema e soprattutto la struttura dei costi che sta diventando insostenibile nella tradizionale situazione. servono per migliorare ovviamente la distribuzione dell'energia elettrica, immaginiamo noi che oggi gran parte dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili che deve essere consumata immediatamente viene purtroppo dispersa anche perché non esistono ancora tecnologie di accumulo sufficientemente economiche da poter immagazzinare tutto. Attraverso questi sistemi e il collegamento veloce tra svariate decine di milioni di oggetti c'è la possibilità di capire e di comprendere le tipologie di consumo delle famiglie e magari indirizzare in quel preciso istante ciò che viene prodotto. Questo è abbastanza importante. Altri aspetti sono le smart city, immaginiamo che oggi nell'attraversare una città grande come per esempio Roma, non lo dico a caso, magari in un tragitto di un'ora io sono fermo più di 20-25 minuti al semaforo. Una città intelligente con i sistemi esperti che riconoscono i percorsi, le semaforizzazioni, che vedono il traffico e che indicano la strada in realtà io posso ridurre fortemente i tempi di attesa e di conseguenza anche un pochino ridurre l'inquinamento dell'automobili nell'atmosfera. È solo una piccola parte ovviamente. Lo sappiamo che sono le piccole gocce che formano l'oceano ed è sicuramente un tema di grandissima attualità. A proposito di 5G e anche poi di intelligenza artificiale, un tema comunque chiave, oggetto di grande aperto dibattito, è quello della sicurezza. Ecco, come le reti 5G riescono a garantirla e come si riescono a quietare gli animi di chi su questo tema un po' si arrovella? Beh, intanto mi faccia dire che gli animi si sono un po' riscaldati anche a causa del confronto geopolitico tra queste due grandi superpotenze, quindi gli Stati Uniti e la Cina. E purtroppo la Huawei, che è una delle più grandi aziende multinazionali che produce e che sviluppa tecnologie, diciamo delle reti di quinta generazione, ma anche delle precedenti e delle future sulle quali ha già cominciato a lavorare, ovviamente ne è stata il capro espiatorio. Dobbiamo dire una cosa molto importante secondo me, che il problema non è correlato, connesso soltanto alle reti, il problema della sicurezza è estesa all'intero cyberspazio, il problema della sicurezza dei dati in particolare che fa riferimento anche a tutte le tecnologie affini, che sono i big data, che sono i cloud, che sono le applicazioni sviluppate in maniera verticale dalle grandi realtà informatiche del mondo, che sono i database dei social network tipo Amazon, tipo Facebook, che poi sono quelli che recentemente hanno più subito attacchi, come lei saprà. L'avvento dell'intelligenza artificiale ovviamente aumenterà a dismisura il numero di attacchi, che già si parla di centinaia, di migliaia di attacchi ogni secondo in tutte le reti del mondo, in tutto il cyberspazio. Le reti di telecomunicazioni hanno una caratteristica importante, che nascono all'interno di comitati di standardizzazione mondiali, dove c'è la grande cooperazione tra tutti gli attori delle telecomunicazioni, tra gli operatori delle telecomunicazioni, tra gli istituti ovviamente di ricerca e sviluppo e quindi c'è una sorta di cooperazione tra scienziati, mi lascio dire, per realizzare sistemi di protezione che sono comuni a tutto il sistema delle telecomunicazioni. Attraverso questi standard ovviamente il sistema, non voglio dire che è protetto, però se vado a vedere il numero di attacchi che hanno causato perdita di minuti, perché nelle reti non esistono dati stabili su database, che quindi possono soltanto causare problemi di interruzione del servizio, in realtà, come dice un rapporto Enise, dicevo anche durante la presentazione, in realtà abbiamo visto che negli ultimi 5-6 anni la media di attacchi, di problemi al funzionamento si è ridotta a circa 150-160 casi. Di questi 160 casi, soltanto il 3-4% è dovuto ad attacchi esterni, che però sono comunque rilevati all'interno dei sistemi di monitoraggio molto efficaci, molto potenti degli operatori che hanno sonde su tutta la rete e quindi identificano questi aspetti. E l'altro 95% sono system failure, quindi la caduta di sistemi operativi informatici ed anche errori umani. Ecco, tutto questo, e finisco, ha causato una interruzione del servizio per circa 960 milioni di minuti, che rappresentano semplicemente lo 0,02% dell'intero traffico. Ora, muovere intorno alla sicurezza delle reti, tutto lo scibile che poi deve riguardare tutte le reti telecomunicazioni e tutta la parte informatica e soprattutto quando l'Europa deve riguadagnare un gap tecnologico nei confronti delle due grandi superpotenze che hanno usato l'innovazione a go-go per far crescere la propria economia, a me sembra sciocco che si vada a puntualizzare sugli aspetti della sicurezza un solo fornitore che tra l'altro è non europeo ma che rappresenta il 20-25% della presenza tecnologica. Io credo che questo sia inconcepibile e sia di fatto in contrapposizione con tutto quello che accade nei comitati di standardizzazione e nel rapporto tra tecnici, tra ricerca e sviluppo di tutte le aziende. Anche perché è un tema di grandissima attualità, l'Unione Europea anche si sta dibattendo rispetto a tutta la normativa, c'è un gap, adesso però sembra che ci sia anche un'ulteriore distensione anche nei rapporti, anche la questione dei dazi pare nuovamente ridistendersi, c'è stato in questi giorni anche il vertice al commercio a Shanghai e ha partecipato il nostro ministro Di Maio, insomma forse qualche distensione c'è? No, indubbiamente c'è distensione, ci sono delle dichiarazioni che sono molto interessanti come quelle fatte appunto negli incontri della Cina di questi giorni, rimane il fatto che è inconcepibile che ancora esiste una legge che di fatto non recepisce le dichiarazioni che vengono fatte a livello mondiale. Io mi auguro che questo venga fatto come del resto ormai si parla nei prossimi giorni. E noi teneremo assolutamente monitorato questo argomento. Io ringrazio nuovamente il dottor De Vecchis per essere stato qui con noi, non mi resta quindi che salutare i telespettatori per questa prima parte di giornata delle fonti TV in trasferta a Palazzo Mezzanotte è tutto, ci rivediamo poi questa sera per le fonti awards. Linea allo studio. Grazie.